Beppe perché voglio che Milano rimanga una delle più belle capitali europee, anzi magari diventi la più bella e sia di esempio alle altre. Beppe perché sono un ricercatore biomedico. Milano è un concentrato di università, di centri di ricerca, di talenti che vanno valorizzati e Beppe con Espo ha dimostrato di poter essere un catalizzatore di investimenti pubblici e privati per poter potenziare la ricerca e le università a Milano. Beppe perché è un manager che sa dar valore ai suoi collaboratori.